ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video quest'oggi parliamo di launch control prima di iniziare ragazzi un saluto al mio amico daniele ciao daniele grandissimo allora launch control ma anche paddle ragazzi ovviamente non vi soffermerò tantissimo sui paddle e vi invito per saperne di più a guardare il video di alessandro k di malati di sim racing perché ne ha parlato un bel video lo lascio qui sopra in una scheda così potete andare a vederlo e oggi invece mettiamo in pratica la differenza tra il launch control le frizioni paddle e anche la frizione manuale allora ragazzi che cos'è il launch control? il launch control è un sistema elettronico che ha la capacità di ottimizzare la partenza di un'automobile questo è molto molto semplice in pratica riesce a ottimizzare quello che è lo scarico della potenza e lo stacco della frizione che essa sia automatica manuale quello che è e questo riesce a ripeterlo più volte nel tempo la differenza tra una partenza manuale e una partenza con il launch control è che il launch control praticamente funziona sempre allo stesso modo e quindi quando l'avete configurato ripeterà sempre le stesse azioni appunto di ottimizzazione rispetto ad un essere umano che per quanto possa essere allenato e c'è sempre quel marginile di errore per quanto tu possa essere bravo quindi è una garanzia di fare delle partenze sempre a bomba lo vediamo nello specifico perché la conspit offre per chi ha una cpp lite tramite il suo software proprietario appunto questa funzionalità launch control come funziona il launch control molto semplicemente andando a fare la configurazione di un ok quindi un tasto che richiama la funzionalità si attiva attivandola viene a leggere il launch control il setting che vedete sulla parte destra in cui voi andate a configurare appunto dove inizia il byte dove finisce la staccata della frizione e tutta la tempistica come potete vedere al centro tra il 30 e il 59 per cento che ho scelto per questa di 90 in cui la frizione viene a lavorare questa parte qui è la parte appunto automatizzata in cui chiedo al software di stacca dal 59 al 30 per cento in 800 millesimi di secondo quindi 59 rappresenta proprio dove inizia a staccare rimani in 8 millesimi di secondo fino al 30 per cento questo è il che deve fare dal 30 per cento in poi fino al release stage cioè la parte in cui cade completamente l'utilizzo della frizione quindi il rilascio di botto della frizione questo simula quindi una staccata praticamente perfetta che potete cucire intorno all'auto che state utilizzando l'unica pecca ragazzi che non c'è la possibilità di salvare dei profili bisogna appuntarseli prima ma sono sicuro che con speed penserà anche a questo quindi vi faccio vedere a livello di software come funziona quindi guardate questo è la telemetria dei vari pedali quello che ci interessa ovviamente è la frizione se io volessi fare una partenza lanciata dovrei rilasciarla in questo modo piano piano ok proviamo a ripeterla provo a ripeterla più o meno cercando di vedere che la curva già è diversa quindi il comportamento del motore della partenza sarà completamente diversa l'uno dall'altro o comunque ci saranno variazioni significative di quella che è la prestazione e se in più ci aggiungete che il fattore umano è quello che dà l'imperfezione a quello che è l'esecuzione di una partenza e in più il fattore emotivo il nervosismo il fatto di essere emozionato stressato stanco questo tipo di movimento con la frizione cambierà sempre disegno non sarà mai sempre la stessa faccia invece con il launch controllo che funziona così tengo premuto l'ok che ho configurato premo la frizione gas a martello rilascio e guardate un po sempre e costantemente lo stesso grafico che indica la staccata e il praticamente il lavoro che faccio fare è sempre uguale di conseguenza sarò molto costante con le mie partenze cioè per eseguire gas a martello stacco la frizione con il tasso premuto e via quindi questo è un lavoro di preparazione ci si perde un po di tempo però si riescono ad ottenere veramente delle prestazioni molto fighe molto belle e dopo di che vi faccio vedere anche la configurazione per la calibrazione dei paddle del cube controls in questo caso la f pro come vedete quando tiro sulle due frizioni sulla parte sinistra mi fa vedere praticamente vedete la frizione come si muove se io lascio una ecco questo è il bite cioè il morso dove la frizione stacca ok rimane comunque attaccata e il motore si può continuare a imballare e dare sfruttare tutta la potenza poi ovviamente qui la differenza è che comunque c'è anche una piccola parte di manualità che di molto inferiore a quello il controllo totale della gestione appunto della frizione quindi andiamo in pista e proviamo ovviamente a fare una partenza lanciata come vedete in alta a sinistra c'è l'accelerometro test dai 0 a 100 che misura quanto tempo ci mettiamo appunto da 0 a 100 così siamo precisi precisi e vediamo cosa riesciamo a fare partenza da fermo cosa ci fa gas a martello frizione prima inserita e proviamo quindi manuale vediamo 3 secondi e 15 3 secondi e 15 ragazzi per questa prima partenza più o meno siamo in pianura e proviamo il launch control premiamo il control che il nostro hotkey gas a martello e lasciamo di botta la frizione 3 15 da battere non è ottimizzato e in una sola partenza due decimi di secondo due decimi di secondo ragazzi dipende dalla velocità ma può rappresentare almeno 10 15 metri in partenza anche due decimi in meno per raggiungere i cento chilometri vuol dire i cento chilometri già sei avanti ora proviamo i paddle allora non so se sono ottimizzati quindi in questo caso si tira sulle due parette gas a martello si lascia prima quella di destra e poi si cerca di gestire quella di sinistra che in questo caso per me configurata così per il byte e vediamo se riusciamo a fare due meno di 2 85 o comunque meno di 3 15 gas a martello vogliamo gestione manuale 268 è praticamente il migliore con un solo tentativo ragazzi quindi è inutile che andiamo avanti perché ho fatto la media ho già provato ragazzi è questa due decimi di vantaggio con il launch control che ovviamente può essere ottimizzato 268 quindi siamo veramente ragazzi altri due decimi cioè tra i paddle e la partenza manuale 4 decimi ma vi rendete conto 4 decimi quanti sono ripeto il launch control si può sistemare si può andare a affinare non ho perso tutto questo tempo con questa macchina qua era solo per far vedere l'efficacia tra la partenza manuale e quella automatizzata e anche semi automatizzata la verità è che con il byte manuale uno ha la possibilità di poter andare a dare più frizione o meno in base a come si comporta l'auto l'unica cosa è che c'è sempre una piccola parte di manualità che durante le fasi di partenza di gara possono venire a infigere sulle performance di partenza il launch control ovviamente quando si affina l'ottimizzazione per ogni singola auto cosa succede è che sarà sempre eseguito allo stesso modo quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto non esitate a lasciare un pollice in su lasciatevi un commento ditemi cosa ne pensate iscrivetevi al canale tanto è gratuito e noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao